ed eccoci qui di nuovo su League of Legends per vedere le nuove novità che metteranno spero a breve partiamo con un nuovo PG supporter Nami ability power naturalmente ah non si vede bella, non si vede niente comic song vabbè non c'è niente si ma spiega una merda comunque è un buon PG supporter poi vediamo se riesco a giocarci e farvelo vedere poi partiamo col dire che metteranno nuove skin per natale non so quando prossimamente le prossime 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 sono allora quelle di nocturn eccola qua un attimo solo eccola qua che è davvero una figata stupida questa skin proprio bellissima dopo ve la faccio vedere poi dopo quella di nocturn le metteranno credo insieme spero io la la prenderò assolutamente quella di virus che ho comprato prima veramente questo è l'olpb mi raccomando davvero bella ora ora aspetta 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 vediamo se ne ho messo qualche altra skin no no sono solo queste qui per adesso che metterò poi quella di natale ve le faccio vedere più in là ed eccoci qui con Arclight Varus boh Arclight boh forse perché Arclight boh luce Varus vediamo vediamo com'è questa skin se è davvero bella come ho visto nel video aspettiamo solo il scaricamento ed eccoci qui ah naturalmente ora vediamo le nuove impostazioni anche nel gioco ahia che lag ragazzi ho pochissimi ecco gli fps sono saliti 24 25 bluntshed carriza il nuovo menu naturalmente noi partiamo col oddio vabbè facciamo tutti gli item da mage sta qui non ci interessa c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è è più umano diciamo davvero bella davvero 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 bella 30 secondi poi prendiamo gli altri personaggi proviamo anche gli altri personaggi ora per boh ora sta no non c'è niente cazzo oh cazzo arriviamo qui attendiamo attendiamo i minions eccoci qui forsaken dov'è il nostro caro shane bot finchia come lag ma qua è lag ma qua è lag 4 1 sempre giusta eh solo cowards fuori in un aspetto è abbastanza carino come si si è davvero carino proviamo il damage è davvero bello l'arco comunque no turn it ma se non mi caso non lo uccido mi gusta tantissimo sto farlo veramente sembra davvero 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 give me a target dai shane oh vabbè mi sta un tanke non è stato oh ma c'è tutto cazzo mi sta morto tranquillo naturalmente sono sempre più forte stavo morendo anche contro il bot vediamo in fretta vediamo questo beh quella lì si è vista questa qui quella che mette gli stacks come li chiamo io stack effetti ma poi quando il minion sicuramente c'è la la passiva di varus aumenta la velocità di attacco e vedete anche l'arco cambia il colore si è bravo questa qui cazzo 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 non è cazzo cazzo mi dà un gioco su un muovo vediamo adesso il danno che gli fa scusate, non ci puoi spiegare oh, eh vabbè, non sta ah, guarda che il danno andiamo subito al livello 6 quindi le due paio cambiamo la persona oh, oh vabbè, scena scappa, bastardo questa è la linea dell'expo, no? era enorme la linea dell'expo sembra pure che i feti ora la passiamo di qui, eh non c'è la linea dell'expo i miei eroi sempre trovano le sue ma anche se un passaggio io ci metto in un video ci c'erano due ulteriori non c'erano che abriamo la linea dell'expo vediamo anche la linea dell'expo che stanno molto felice ma è nulla quanto a me, il tuo mare è molto più forte ma più vicino è sempre via è davvero uno dei miei preferenti ma comunque, non è lavato non è assista non è lavato daccibri non c'erano ora dovrai farmi provare la linea No regret. Perchè la scuola di spender. Irinji... 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 Come se ne va. E' a puxare un po'. Me deve paere come si pica. Eh no, come lo so. Vabbè ragazzi, questo è Varus, questa nuova skin, spero che non costi tanto, non me la mancherò, e niente, un saluto da Mukanz, perché ora faremo vedere le altre skin, eccoci di nuovo contro il nostro Shanebot, che sarà la nostra cavia, questa è la figurina di Nocturr, Eternum Nocturr, teniamo il caricamento come sempre, ed eccoci qui, oddio, Siamo alla cotada di Nocturr, ma è davvero senso, come balla, come se mi ricordo nevole parla, questo pino, ma abbiamo un lancio da spadina, non so neanche ci sono meno affigliata, che figata assurda, Stupendo eh Attendiamo sempre i minions Ed eccoci qui Ho detto direttamente i boss Sperando che Shen non sia tipo top Tra parte del mondo Ah questa è la mia volta che uso No Non so se Ah una passata 120% di damage Buono buono Aspetta Quindi è davvero Ah 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 Type Come è un cavale bastardo More Perché la cosa è così Cardi Che Shen Ehm Come che Il caio di farla è Il caso Il caio di Il caio di Ehm ah sicuro anche? eh si sicuramente il sicuramente si fa da usare qui è davvero davvero bello mi è una novità via 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 Sì! Abbiamo i livelli di lei Ma è un po' di capire Sì, è pronto per attacarlo No Lo scudo è la domanda Teniamo la F Non voglio che scappi Non voglio che scappi Ma cos'è, cos'è Non ho curato a tutti Ma che giara E per me se ne andava Io non ormai C'è fatto Vabbè va sul culo Vediamo il culo Vediamo il culo E' vero, se ti clicca poi ti città E' vero, non è vero E' vero, non è vero E' vero, non è vero L'ultimo fail era Vabbè, tornare in calza Ed eccoci qui Ho aspettato il pull down Esatto Così qui Scendo, ho provato anche la end Ovviamente vado E' vero E' vero E ora andiamo a morire da torretto Morto E' vero E' vero E' vero Invece rieccoci qui Di nuovo Con Nami Il nuovo PG supporter Che proveremo adesso Sempre contro il nostro caro Shen Ecco, vabbè sfigurina Mi sa anche, guarda Mi sa anche malissimo Cioè non sta dentro il quadrato giusto Tipo come quella di Shen Da storta Vabbè Piccoli bite Eccoci qui Ecco la prima skill C'è sempre un altro C'è sempre un altro Magica Beauty power Il primo è un bel dora Anzi Se non la faremo su Porter qui Giochiamo gli avrì di power Anche se ho le rune E' vero Benvenuti al summoner E' zapporto 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 Avete riuscito L'acqua Ipporto E' zapporto Ipporto L'avete riuscito Soperto Questa è una riuscita Soperto Mi ha riuscito E' zapporto E' zapporto Ipporto un'altra parte un'altra parte un'altra parte qui ci hanno fatto un'altra parte è un'altra parte troppo un'altra parte che cosa ha fatto cosa è successo? cosa è successo? cosa è successo? oh mio dio ragazzi favoloso no, vogliamo dire come Shen muore non ci credo la potenza vedo la mia casa non ho visto che è davvero morto guarda si fintura invece veramente poi abbiamo portato un down che bello questa skill attiva qui la possiamo usare solo sbilanci che non è vero ma non è vero che mi riesco a capire però non è vero che mi ha dato uno che non è vero che non è vero ma non è vero ma non è vero non è vero Sì, mi ha appavernato! Sì, mi ha appavernato! Stai scendendo mi ha appavernato, ragazzi! Tanto che rimane qui sceso, perché andiamo per prendere un gioco forte e la donna è già lunga. Non vanno a compagni. 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 Però se non mi equizza va bene, non fermo il gioco. Stiamo comandando. Guarda, guarda, guarda. Mi è piaciuta assurda. 100 mani. 100 mani. 100 mani, vorrei sapere. Perfetto di nuovo. Aspettiamo il 100 mani. Guarda, guarda, c'è un senso mani. Non c'è le cozioni, questa percione. Stiamo fanno Premi. Ci c'è il problema. No, guarda, c'è un problema. Questa è какое spazio caracco. Che cosaude ngày! No, abbaszti! Cosa sceglie? Non voglio andare dall'altro lato, non mi voglio Ma non ce la farà match? Vabbè noi alla fine abbiamo potuto provare l'aereo Ma finiamo che c'è l'aereo Prendiamolo e vediamo Di cosa è capace questo percorso L'aereo è il best spot Summona via l'aereo Eh... Sto a un'unità delle persone Beh, non c'è nulla, non c'è nulla Non ci credo, c'è così l'aereo L'aereo è il best spot La scienza deve anche provare l'aereo Ok Ok Prendiamolo tra i lui Non so Intanto sono morti Cosa 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 bello